Benvenuto su Gossip & News. Prima di condividere alcuni toccanti momenti, ti invitiamo a seguirci lasciando i tuoi commenti e un bel like per restare aggiornato. Alberto Urso, rinomato cantante tenore italiano, polistrumentista, compositore e musicista di talento, è stato acclamato vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua versatilità artistica è universalmente riconosciuta, come testimoniano fonti come Wikipedia. Recentemente, Urso ha condiviso un commovente tributo attraverso la sua musica, eseguendo la canzone ti ricorderò. Le parole toccanti del brano evocano ricordi di affetto e promesse di non dimenticare i momenti condivisi, come i baci d'infanzia e le notti sotto le stelle. Nel video accompagnato da questa struggente melodia, Alberto Urso ha creato un omaggio commovente per salutare il suo amico a quattro zampe. La canzone trasmette anche un senso di rimpianto per non aver potuto salutare l'amico peloso prima della sua partenza, ma contiene la speranza di un futuro incontro. Ci rivedremo. Buongiorno amico mio. La pubblicazione di questo video ha suscitato una calorosa risposta da parte dei seguaci di Urso, che hanno espresso il loro sostegno attraverso like e commenti, condividendo l'emozione di questo addio commovente. La musica di Urso continua a toccare i cuori delle persone e a creare legami emozionali profondi con il suo pubblico. Se vuoi dare un tuo parere commenta il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto.